L'episodio inizia con Cap e The Magman che giocano con la ruota fortunata di Nonno Bricco, e mentre si distraggono per un millisecondo, essa rotola via dal cortile e i due sono costretti a inseguirla. Intanto il nonnino si sta ascoltando alla radio il famosissimo show Rotola i Dadi, condotto dal carismatico re Dado, che entra in scena scimmiottando il ballo e lo slang del leggendario Cap Calloway, davanti al suo pubblico composto da, oltre a quelli citati nel primo episodio, da un gatto che assomiglia tantino a Tom, da Pippe Dot, la tessera del domino che affrontiamo proprio nel casino, dalla versione dei poveri di Oswald e del Lucky Rabbit, e da una tigre che assomiglia molto a Ops, della striscia a fumetti Calvin e Ops. Lo show consiste in superare tre prove per vincere un misterioso premio. Le prove sono indovinare la melodia, una domanda di carattere generale e far rotolare due dadi e ottenere un numero qualsiasi. E tu, spettatore da casa, ti chiedi, perché è così facile vincere allo show? Beh, perché il premio consiste in entrare in una misteriosa stanza dove c'è un macchinario che aspira le anime. Oh no, che colpo di scena! Re Dado un lavoro per satanasso! Sono veramente scioccato! Da notare che dietro le quinte si possono intravedere le carte uguali a quelle che Re Dado ci lancia nella sua boss fight. Lo show riprende e Re Dado chiama involontariamente come prossimo concorrente Caped, che era entrato a teatro con Magman per recuperare la ruota. Si vede che è felice, vero? Salendo sul palco, Caped racconta un po' di lui ed elenca le cose che aveva fatto nel primo episodio. Mentre monopolizza lo show facendo una pernacchia a un certo Jimmy e cercando di ricordare una barzelletta, Re Dado nota il manifesto da ricercato della tazza e così, prima di cominciare lo show, chiama satanasso e gli comunica che a breve gli consegnerà l'anima di Caped. Così, Dado cerca di rendere le prime due prove di Caped facili facili, ma la tazza si dimostra molto ottusa. Tuttavia, alla fine riesce, grazie ai continui suggerimenti del presentatore, ad accedere al round finale. Dopo aver fatto involontariamente il nervosire ancora di più il presentatore, Caped gira i dadi che si staccano dall'asta ed esplodono. Ma certo, è ovvio. Non i miei bambini! Siccome non ha fatto nessun numero, Caped ha perso, ma Re Dado con una scusa gli dice che ha vinto e che può ritirare il premio. Tuttavia, questo genera dissenso fra il pubblico, che afferma che il gioco è truccato. Caped non la prende bene se ne va, portandosi con sé un mugman impietrito. Re Dado cerca con la forza di riportarlo indietro, ma viene tramortito dalla ruota che si porta con sé le due tazze. Manco due secondi che ha fallito che giunge Enchman e che dice a Dado che il boss vuole vederlo. Quella che segue è forse l'apice a livello animato del cartone. Re Dado si presenta da satanasso in una sala simile a quella della boss fight del demonio, tutta animata usando la tecnica a rotoscopio, una delle mie preferite, dove sono appesi dei quadri che raffigurano le tre trasformazioni di satanasso, ovvero il ragno, la capra e il serpente. E gli dice a Rick, cioè vuole dire a Re Dado, che Enchman gli ha riferito del suo fallimento e il suo tono da calmo appaccato diventa minacciosamente terrificante. E dopo che rimaniamo meravigliati da come tutta la scena è stata animata a regola d'arte, satanasso punisce Re Dado non facendogli più con lui del suo show e rimpiazzandolo con Enchman. Fine. La cosa è che come... Allora Re Dado, conosci Enchman, vero? Ciao! Sì, conosco Enchman.